Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Giornata anticiclonica con bel tempo soleggiato su tutte le regioni e clima decisamente primaverile. Da evidenziare soltanto una maggiore nuvolosità sui settori alpini e appenninici con qualche breve e sporadico rovescio. Clima decisamente primaverile con punte di 24-25 gradi, soprattutto nelle pianure interne del centro nord e settore tirrenico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 31 marzo. Bella giornata primaverile con cieli sereni, salvo locali e anvolamenti nelle zone interne a ridosso dell'Apenino Lucano e sui settori tirrenici. Di sera cieli stellati ovunque con qualche nube residual solo sulla basilicata interna. Temperature stazionarie o interiore lieve aumento con punte massime anche di 24-25 gradi. Venti deboli o quasi assenti con rotazione dei quadranti meridionali durante la giornata. Mari da calmi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli che immortala un paesaggio surreale nei pressi di San Fuca, Lecce, ricoperta da qualche giorno fa da una suggestiva nebbia. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook, di Meteo One e Teleappola oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.